E' polemica ad Avellino tra opposizione e maggioranza consigliare sugli imminenti lavori di riqualificazione alla Casina del Principe. Questa mattina il presidente della Commissione Trasparenza, Ettore Iacovacci, ha compiuto un sopralluogo nell'edificio di Corso Umberto I con le associazioni e l'ordine dei commercialisti ospitati nella struttura, che dovranno lasciare l'edificio. Anche loro sono sul piede di guerra. Non ci hanno nemmeno avvisato, le stanze sono in condizioni fatiscenti e spesso denunciano il presidente dei commercialisti, Francesco Tedesco e i referenti di Infoerpini e Avionica, in questi anni abbiamo pagato di tasca nostra gli interventi di manutenzione. Oggi ci sfrattano senza neanche un preavviso. C'è una parete intera che è ricoperta di muffa. Abbiamo fatto più volte interventi, abbiamo richiesto al Comune di intervenire, ci ha detto di cominciare a sistemare le cose. Ci auguriamo che si fa un po' di chiarezza a proposito di questi lavori, si capisce quando partiranno. Perché noi comunque abbiamo degli impegni, delle attività da fare. Il Comune si ricordi di avvisare coloro che pagano, tra l'altro, gli oneri di concessione mensile. Mi sembra veramente assurdo che queste associazioni vivano questo dramma all'interno di una struttura fatiscente, sembra, eppure è stata consegnata 5-6 anni fa alla comunità. E poi chiedono anche canoni o rinnovi di convenzioni. Io penso che queste associazioni abbiano fatto un piacere all'amministrazione a tenerle aperte. Almeno non l'hanno vandalizzata, viste le altre strutture come sono andate.